Inanzitutto la ringrazio per l'intervista. Visto che altri non hanno risposto. Una precisazione, vista le vicissitudini che sono successe da un paio di settimane in questa parte, cioè gli annunci sul giornale, chiamiamoli contrasti tra lei e Terrenzi, quindi all'interno della stessa maggioranza, io ho fatto una richiesta scritta a lei in maniera ufficiosa, cioè su Facebook, invece al sindaco in maniera ufficiale e protocollata, il 26 che l'ho protocollata, senza ricevere risposta. Comunque ognuno già fa le sue scelte. Allora, Lattanzi, gruppo Lattanzi, lei ha iniziato la vita politica, voleva un attimo un'infarinata, abbastanza veloce, diciamo, delle vicissitudini politiche che lei ha riguardate, perché lei non è la prima volta... Sono un giovane, diciamo. No, esatto, da un punto di vista politico. Lei ha circa 20-30 anni. Allora, io mi sono candidato l'unica volta nel 1990, con il Partito Comunista. Sì. Sono stato eletto qui Consigliere Comunale, poi ho fatto l'assessore per 7-8 mesi, poi mi sono dimesso per questioni personali. Dopodiché ho fatto il Consigliere Comunale fino al 1994, mi sembra, 1995. Poi sono stato eletto Consigliere Provinciale, sempre nel Partito Comunista, nel 1995 fino al 1999. Sì. E vabbè, lì in provincia ho avuto questa esperienza. Dopodiché c'è stato il passaggio dal PDS, al quale io ero rimasto nel gruppo, provinciale, al PDS. Quando D'Alema ha fatto questa cosa nuova, la cosa nuova, eccetera, io non condividevo per la scelta di D'Alema. E sostanzialmente mi sono allontanato proprio dalla fine del periodo del Consiglio Provinciale, in sostanza. Mi sono allontanato e ho aderito ai Democratici di Broglie. Non so se ti ricordi, nel 1999, nacque i Democratici di Broglie, l'Asinello, in sostanza. Sì. E con l'Asinello mi candidarono al Sindaco di Santo Fiammare con un'alleanza con i Popolari. E' rimasta quella, sostanzialmente. Prima infatti c'erano, perdonami, prima infatti c'erano due gruppi, voi, Democratici, e poi i Popolari, che erano divisi. Due gruppi separati. Che hanno appoggiato me come candidato sindaco allora, nel 1999. Perdonami, per i Popolari chi c'era, chiamiamolo capogruppo? Il segretario era lei o l'attivio, dei Popolari. Quella volta che non andammo all'ottaggio, perché c'erano voti poco più, nel 1999. Dopodiché siamo stati all'opposizione, nonostante c'era il Sindaco Filani, allora più volte ci avevano chiesto un accordo politico, che non c'era, ma non lo facevamo perché noi volevamo l'apparentamento, ovviamente. E rimanemmo all'opposizione per cinque anni, fino al 2004. Dopodiché nel 2004 mi ricandidai sindaco con tre liste popolari, democratici, e una lista di giovani e ragazzi, ovviamente non andai a ballottaggio, perché ci andò Martinelli con Clementi, e con Martinelli facevamo un l'apparentamento e Clementi viene scoprito, ma viene scoprito per la mangiata del mondo, e gli ho perso in quel casetto, sia questa la verità. Oggi è paradossale che Clementi va a fare l'assessore, non se mai presentato alle elezioni, non se mai presentato con nessuno, nelle ultime elezioni va a fare l'assessore al posto mio, tanto per intenderci. Conderenzi la vince. Certo, conderenzi, perché adesso sta a fare l'assessore. Noi dovremmo prima vincere le elezioni, come abbiamo fatto noi, poi il momento fa l'assessore, ma non è lui, sono anche il piccolo. Poi nel 2007, nel 2006, c'è fu la crisi con Martinelli, perché ce ne evocò le elege, eccetera, poi possono dire quell'assessore, non me ne frega. Ti sorprete. Sì, scusi, solo una domanda a tal proposito. Scusami, dopo la riempie, questa cosa sì. Poi la potremmo mandarla direttamente, dopo se ci sta qualche problema, me lo dici. Ci sta, c'è Franca Romagnoli, se non vado errato, che è da vent'anni che va in giro con sto papello, dieci anni, dieci anni. È vero, non è vero? Che papello è? Allora, io ti dico come è quella cosa. Ok. Quella cosa è stata scritta, non mi ricordo male cosa chi, quando quella sera della Spigluccia, perché non è stato presentato a nessuno, quel foglietto, non è stata fatta una proposta a nessuno. Capito? Quella sera, quando a me e il Diomeni, eravamo quelli revocati da Martinelli, ci hanno fatto vedere quel foglietto di richiesta, noi abbiamo preso il foglietto e l'abbiamo cestinato. C'è stato un altro grande amico, non faccio il nome, un grande amico, che l'ha ripreso quel foglietto e poi è venuto fuori quello che è venuto. Questo lo sono i fatti. Quindi quelle richieste non sono state fatte a nessuno, sono state proposte da qualcuno del nostro gruppo, a noi, quella sera, ma noi li abbiamo tutti completamente gestinate, perché non erano condivisibili, non l'avremmo mai fatto, non stavamo lì per i posti, altrimenti ci saremmo restati, non si crefammo i posti. Quindi non è. E quello è venuto fuori. Ma con quel fogliettino hanno perso nel 2007 Martinelli, l'ultima volta l'hanno ripresentato in tutto il paese, hanno riperso, quindi significa che ormai quel fogliettino i cittadini lo valutano per quello che è. Quindi valutano semmai noi come persone e come gruppo. Tanto è vero che nel 2004 abbiamo fatto vincere Martinelli, poi ci ha trattato in questo modo, nel 2012 abbiamo fatto vincere Terenzi e ci ha trattato in un modo totalmente peggiore, alla, non so, all'ennesima potenza peggiore. Quindi noi ne prendiamo atto. Allora, c'è stato, prima un altro piccolo aspetto. Allora, voi eravate divisi tra democratici e popolari. Sì. Poi c'è stata l'unione tra questi due gruppi. Poi. Come mai? Perché? C'è stata l'unione perché di fatto i democratici e i popolari come gruppi politici che si stavano uniti già loro. Ok. Nel senso che praticamente era venuta fuori a Margherita. Ok. Però noi, anche qui, ci stanno amiciando, lasciamo bene. Avevamo fatto il primo circolo del Margherita di tutte le Marchese, non mi ricordo. Poi i giochetti politici ce l'hanno totalmente, ce l'hanno tolto, perché noi non eravamo all'opposizione del PD dell'attuale DS, allora, non mi ricordo come si chiamava. Quindi il simbolo alla fine ci è stato concesso. Abbiamo fatto già un'altra scelta di fare una lista autonoma fuori dai partiti, anche se siamo rimasti con quell'identità sostanzialmente, siamo quei gruppi lì. Oggi, se ci ritroviamo come gruppo dirigente, una quindicina, venti persone, sono le estrazioni popolari, alcuni democratici, sostanzialmente siamo in tutte le aree, ci sono persone che possono definirsi anche estrema destra, anche persone estrema sinistra. all'interno del suo gruppo? Sì, all'interno del suo gruppo. Adesso veniamo alle ultime vicende. Quello che mi ha meravigliato, se devo essere sincero, io ho appena visto i cartelloni, è di una persona che da 20 anni sta in politica e ha accoggiato un ragazzo nuovo che ha creato una lista che dalle parti mie funziona che è un po' come se un ragazzo viene da lei e dice guarda, sto aprendo lo studio se ti vuoi associare con me, ma sarai tu a dire c'è qualcosa che non va, ne sono chiesto, no? Che cosa è successo esattamente? La verità è un po' diversa. È questa, da una certa fase in avanti, è un'altra invece quella che è successa prima. Perché questo ragazzo a cui tu ti riferisci, penso che è Alessio Terenzi, faceva ancora l'assessore con la giunta a mezzanotte e venne da me prima attraverso mio fratello contattandolo, cercando di verificare se io avessi ancora l'intenzione di ricandidarmi. Non c'era quell'intenzione. Poi venne da me, mi chiese se io ero disponibile da appoggiarlo come candidato sindaco perché lui con mezzanotte stava in rottura colpiti e volevo uscire. Non dico nemmeno quelle affermazioni che faceva lui prima e i suoi amici anche dopo contro il PD eccetera. Quindi, quando io ho dato l'ok personale, la mia parola, io ho dato una parola che do, poi vale anche indipendentemente da quello che succede. Quindi ho dato la mia parola e mi sono impegnato a cercare di coinvolgere tutto il gruppo nostro. E' quello che è successo. Questo è quello che succede. Una volta che lui ha avuto l'ok, si è dimesso l'assessore, hanno fatto questa lista e si è presentato con questa lista. Quindi non è che è venuto da noi con la lista lui l'ha fatta, si è dimesso, l'ha fatta dopo che aveva il nostro consenso. Questo è venuto prima lui, poi è venuto lui, Belletti, l'attuale vice sindaco per Deggia, tutti no, tutti contro il PD, tutti contro no che volevano cambiare le cose, volevano fare il rinnovamento, tutto questo. Però prima hanno avuto il nostro che. Tanto è vero che c'è stato un momento dove il contrasto all'interno del nostro gruppo era venuto fuori e c'erano diversi che non erano d'accordo con di non ad appoggiare Terenzi. Io siccome però ho speso la mia parola con Terenzi o cercando di mantenere il gruppo unito, alla fine ci sono riuscito, forse sbagliato sicuramente, ma sono riuscito a mantenere il gruppo unito e ad appoggiare questo. Mi ricordo che una sicura quando noi dicevamo vabbè, io sono stato sentito come chiamarlo a lui e a Belletti, a Divarda noi ce li diriamo perché ci stanno problemi non c'erano. Quando questo? Questo dopo che hanno presentato la lista, dopo che avevano l'accordo con me. Ah, prima delle lezioni? Prima delle lezioni, insomma. Questo tutto prima delle lezioni che mi hai chiesto come avete appoggiato, non è che l'abbiamo appoggiato che si è presentato con la sua lista. Lui ha chiesto prima l'appoggio personale a me. Io gli ho dato la mia parola e dopo questa parola che io ho dato ho cercato di coinvolgere il gruppo, perché una volta che lui ha avuto l'occhieri complessivo, si è dimesso, ha fatto il suo gruppo, la sua lista, il suo simbolo, poi sono venuti ovviamente da noi con questa proposta, già la sapevano. Noi però all'interno del mio gruppo c'erano diversi non hanno accorto, quindi non mi so, se erano grandi ai problemi. Ho chiamato una sera, sempre prima delle lezioni, prima di iniziare a chiamare il gruppo, questo a dicembre, perché di dicembre, gennaio del 2012, nel 2015-2012, è stato a marzo il mio parlo. l'elezione è stato a marzo. Ho chiamato Belletti e Terenzi, gli abbiamo detto che noi li volevamo, ci volevamo ritirare di un fabbio. E Belletti si è messo quasi in ginocchio a pregarci tutti e noi. Ma chi gli fa ad essere questo giovane? Ci sente dato la parola? A quel punto noi ci siamo sentiti come sempre delle persone. Pensiamo serie, ci siamo sentiti veramente delle persone, dei guerri, in quel modo, dei primi politici. Perché già loro avevano fatto il... No, abbiamo dato la parola a quello che avevano fatto loro, voglio dire, avevano fatto la rivista, sì, sì. Quindi abbiamo dato la nostra parola, quindi noi abbiamo mantenuto la parola. nonostante avessimo, avessi io all'interno del gruppo, una serie di problemi, eccetera, abbiamo mantenuto la parola data. Perché loro si sono venuti a implorare, capito, a implorare queste persone, per cui, da persone oneste e serie, noi abbiamo mantenuto l'impegno sostanzialmente. l'abbiamo mantenuto fino ad aver vinto le elezioni, l'abbiamo venuto davanti a rimanitorare, l'abbiamo fatto, tutto quello che abbiamo fatto. Certo. Quindi, senza nessuna, senza nessuna strumentalizzazione, senza nessuna... Gli accordi per unire, diciamo, le due liste? Quali erano? Non c'erano accorti. Allora, inizialmente non c'erano accorti. Noi avevamo un obiettivo. Quello di cambiare qualcosa a San Deppio e a Mare insieme. Questo è quello che dicevano e valore. Ovviamente noi da dieci anni facevamo la stessa cosa, quindi era naturale che noi fossimo d'accordo. Quindi non c'erano impegni prima della campagna elettorale di altro genere. L'impegno era quello di vincere le elezioni per cercare di cambiare a San Deppio e a Mare con un unico impegno. Ecco la differenza tra noi e loro. L'impegno che siccome tutti e due ci presentavamo insieme contro il PD l'unica cosa l'unico impegno che abbiamo chiesto alle loro era quello di dire se volete andare con il PD ditecelo prima perché noi non ci arriviamo. Loro tutto non te lo dico perché ma che scherzate qua con il PD mai ecco quello che abbiamo ricevuto. La differenza noi ci volevamo ritirare non ci ha fatto ritirare perché avevamo dato la nostra parola. avevamo chiesto un impegno loro l'unico l'unico che era quello di non andare con il PD se mai ci fossimo andati dovevamo farlo in maniera comune insieme gestirla insieme eccetera nell'eventualità l'unico se vogliamo cambiare maggioranza era una cosa che non doveva fare questo è il punto invece l'ha fatto. Allora lei insieme a Terrenzi avete vinto le elezioni quindi stavate in maggioranza e governavate il paese o meglio in teoria non so se definirlo ancora state governando il paese oggi non più oggi lui lui col PD allora nel periodo che voi avete nei due anni nei due anni allora innanzitutto che cosa avete fatto e poi che cosa è successo cioè quali sono stati perché per creare una cosa del genere qualcosa deve succedere unilaterale è unilaterale la questione nel senso che noi una volta vinte le elezioni lì ovviamente come si fanno normalmente certo se sono fatti i riaccordi siccome le tre liste le tre liste avevano preso più o meno i stessi voti quindi il premio della maggioranza è scattato è scattato per la sommatoria di tutte le liste insieme al sindaco quindi si era fatto un semplice ragionamento due due i componenti sindaco e assessore per partecipazione democratica vice sindaco e assessore per le democrazie popolari perché erano avevano preso erano sei conti ma non è normale come vuole e due assessori per oggi diventati cambiando quattro partiti per l'indifo questa era il presidente del consiglio un terzo un terzo questo era i semplici sì accorti un terzo sarebbe per esempio due anni uno due anni uno un anno e non erano 20 mesi ciascuno quindi questo era quello che è stato portamento quindi nulla di più e nulla di meno erano questi gli accorti poi infatti ti dicono il presidente del consiglio è andato a un mandato perché non hanno mantenuto gli accorti gli assessori sono andati come sono andati perché hanno mi deve perdonare voi avete iniziato a governare in due anni ok qualcosa deve essere successo perché io non penso che si arriva la mattina alle 8 allora io non lo so però io sto amministrando un paese e ho la maggioranza funziona tutto in teoria da un giorno all'altro per una questione dei posti se tu te rileggi o te senti la registrazione di verdecchia quando sei dimesso il presidente del consiglio in consiglio nel successivo consiglio comunale quello che a me non è stato mai fatto filmare tra parentesi dall'inizio gli ho chiesto questo poi no ma se tu leggi leggi quelle cose vedi perché c'era questa cosa per una questione dei posti che cosa diceva noi non siamo voluti mai scendere noi perdonami che cosa diceva in queste in queste righe che stanno scritte bisogna avere attaccare il sindaco gli aveva promorto tra di loro era una questione tra di loro quindi dopo però sei chiarita perché adesso c'è viene dove Verdicchia diventava vice sindaco primo assessore vice sindaco era sicuramente una questione di posti loro tanto è vero che partecipazione democratica è da un anno e mezzo che critica il sindaco adesso non lo critica più quindi qual era l'obiettivo prendere i posti e prendere il PD in giunta con quale obiettivo e cacciato noi l'hanno fatto tanto semplice ma in questo modo indonia rischia la sfiducia ma la sfiducia ecco un'altra cosa che voglio sottolineare noi avevamo preso un ulteriore impegno loro l'impegno di non andare col PD l'hanno preso e l'hanno rispettato lo vediamo al contrario noi avevamo detto che non avremmo mai presentato una mozione di sfiducia verso il sindaco adesso Lorenzi e noi l'abbiamo fatta e non lo faremo mai punto l'indipo oggi democrazia cristiana hanno fatto pressioni l'universo di noi per presentare la mozione di sfiducia loro e adesso saranno in maggioranza ma non vuole il caso ma mi deve se ci mancherebbe pronto? pronto? allora noi eravamo arrivati adesso ah se c'era stato qualcosa si che io devo essere sincero io non ho già avuto nulla a che fare con Alessio fino a quando non si è operato dal naso l'ultima volta quando sono andato all'ospedale di incontrarlo a salutarlo l'ultima volta che ci ho parlato ma non c'è stato nessun problema di nessun genere perché lui faceva il sindaco che c'era tutta la sua autonomia io non ho voluto mai influire nei suoi confronti quindi non c'è stata una delibera che sia stata votata contro tutte le unanimità fino a quella data per cui non c'è stato mai nessun problema che io l'unico problema che vedevo era con il suo con partecipazione democratica all'interno del suo all'interno del suo adesso se ne hanno risolto continuamente perché mi servevano i posti per loro e per il tipo l'hanno avuti adesso se ne sono però adesso c'è un problema tecnico di immagine vostra nel senso che perdonami ma se io vengo da lei ok ho ditta vengo da lei mi serve e l'accordo è che la devo pagare e se non la pago più lei non è peccati vede che campo fai a trovare il discorso è questo molto semplicemente se si sono interrotte cioè se lei continua a tenere una promessa nel senso a non votare la sfiducia le persone potrebbero pensare io adesso non so cosa o come però è un è un governo un po' no ma la sfiducia noi abbiamo detto che non avremmo mai presentato che quindi maldegniamo le parole che abbiamo detto punto abbiamo detto che non avremmo mai presentato l'emozione di sfiducia quindi è una perché lei vorrebbe tenere delle parole diciamo quando dall'altra parte lei da un giorno all'altro si è ritrovato adesso non so se definirlo o fuori o meno o comunque sia un atteggiamento cioè uno scombussolamento politico da un giorno all'altro senza come ha detto lei motivazioni cioè il suo gruppo non è stato nemmeno non gli è stato nemmeno comunicato allora io ho aspettato il sindaco quattro giorni prima di Natale il testimone la segretaria il testimone altri per parlarci perché volevo capire che stava succedendo quando sul giornale diceva che l'artimento al PD eccetera quindi sul giornale si vedevano degli articoli ma nessuno a lei l'aveva contattata a noi no a me ma a nessuno la nostra coordinatrice in questa storia non sa nulla di fatto se non fosse per voi per i giornali per la comunicazione diciamo quella non è stata mai contattata e io mi ero riproposto di parlare con Alessio prima di Natale perché tu sai che io insegno e quindi eventualmente dovevo ritornare a scuola quindi per correttezza anche nei confronti dell'istituzione scolastica volevo sapere a lui che intenzione ci avesse presente la segretaria ha telefonato che sarebbe arrivato dopo 5 minuti l'ho aspettato per un'ora e mezza poi sono andato lì ovviamente non venivano e per lui la segretaria del comune? sì la segretaria è sua Stefania quindi l'ho aspettato per un'ora e mezza e arrivo arrivo non arrivava è ovvio che non aveva intenzione di parlare con me tanto che lui non ci ha parlato più quindi da quando l'ho imputato all'ospedale visita di cortesina da parte nostra io e il Marcello di Omeri lui con noi non ha parlato più ma non doveva parlare con me perché non è poteva parlare con la coordinatrice poteva parlare con un'altra non ha parlato più con nessuno lui ha parlato solo con il PD e con i suoi se sono messi d'accordo per ripartirsi i porti e così l'hanno fatto non è che lo devo dire sono i fatti che lo attestano quindi è questa la situazione quindi non credo che ci siano state altre se ci sono state altre questioni lo dovrà dire lui certo è che Di Omeri come assessore fino alla settimana prima gli ha andato a Roma per questione del metanodotto per questione dell'assessorato che ha sempre collaborato io sul bilancio mi sembra poi ho detto ho stato male a giugno ma ho sempre collaborato tranquillamente anche assumendomi delle responsabilità che poi come sai benissimo le responsabilità della giunta è sempre del sindaco in primis perché è lui che gestisce tutti i poteri e tutti gli strumenti ma io mi sassondo anche responsabilità quando ho dato in posizione fiscale veramente apposto il bilancio per cui non c'è stata mai nessuna contrapposizione e lui l'ha sempre attestato fino alle ultime riunioni della maggioranza quindi non capisco ma probabilmente è solo una questione di potere quello che hai detto all'inizio siccome il PD doveva venire fuori da una situazione un po' particolare ha tentato questa strada ma non credo che gli porterà bene un'ultima cosa un paio di ultime cose lei adesso è in teoria questo è l'altro paradosso in teoria assessore però il giornale dice che non si capisce non si presenta e allora allora io come lo voglio io il 17 fino al 17 allora io quando Terrenzi senza parlare con noi ha rifatto la nuova giunta questo è successo perdonami a Natale quindi a Natale Terrenzi vi ha tolto tutte quante le deleghe quando al senato lei ha lasciato solamente la mia prendendomi per il culo ha lasciato solo la mia no in che senso ha lasciato solo cioè perché lei ha revocato tutti meno che a me si doveva revocare anche a me per essere corretto non mi ha revocato noi infatti lui si è attaccato su questo non l'ho revocato infatti perché la lì gli ha detto che sarebbe andata in maggioranza se ci fosse pure noi capito questo è un giocchetto i soliti ciò metti puliti ai quali non aderiamo assolutamente la dc sarebbe perdonami lexidivu 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 sarebbe è quello che abbiamo fatto noi abbiamo detto lui è arrivato ha revocato tutti tra me e me poi ha aspettato il ritorno non so di chi mi ha revocato il 17 gennaio la vice sindaco lasciandomi la delega di assessore e dandomi una serie di nuove delega oltre a quelle precedenti ma guarda io ero rifiutati punto ma il fatto che io non vada in giunta è una scelta politica presa già prima quando lui ha fatto l'allargamento è una scelta del gruppo personale quindi lui poi su questo lui doveva avere il coraggio ce l'avrà per quello che fa di revocare totalmente la mia figura e adesso lo farà perché sarà costretto a fare tanto è vero che ieri ho depositato una missiva dove gli do chiarimenti su questo altrimenti manderò alla corte dei conti la comunicazione perché lui mi sta mi sta pagando un'indennità che io non riceverò per poi perché la devolverò alla Caritas e alla scuola materna di Cassette Rene quindi io non prenderò assolutamente nulla di questa identità di questo mese quindi lui dovrà agire di conseguenza perché dopo questo comportamento se lui mi revoca la vice sindaco dove prima ci ha lasciato non c'è senso mantenermi assessore lei ha fatto una perdonami sta sui giornali anche oggi mi può ho fatto una comunicazione chiedendo chiarimenti sulla posizione mia dicendo io sono assessore forse forse assessore sicuramente senza legge ho premesso che a seguito di questo l'avevamo già detto pubblicamente l'avevamo già detto non avrei mai e poi mai collaborato con questa nuova giunta con questa mazionanza per cui il sindaco deve prendere tutte le conseguenze sicuramente l'avvocato da vice sindaco deve decidere le conseguenze un'ultima cosa questo palese contrasto tra lei il PD c'è un ramo no no palese contrasto si scusami non è un contrasto è un dato di fatto politico il PD ha perso le elezioni noi abbiamo vinto ma io dico però è da un pezzo che legge questo cioè che non ha mai collaborato mi sbaglio allora col PD io è una questione che dicevo nel 99 mi sono allontanato ci siamo allontanati in diversi dal PD perché non condividevamo la linea politica del PD della loro ADS no e quindi abbiamo fatto quella scelta nel 2004 si dovrebbero ricordare l'attuale assessore Clemente e compagni che con noi non hanno voluto fare l'apparentamento vedete con loro sono venuti a chiedere l'apparentamento ma non l'apparentamento l'accordo politico dopo che hanno saputo che noi l'avremmo fatto con Martinelli quindi c'è un lago piangino pure in quel momento quindi quel accordo quella cosa non è non collaborare e noi vogliamo collaborare ma sullo stesso piano negli stessi livelli e con il rispetto reciproco ma se questo non c'è ovviamente noi non collaboriamo è ovvio che poi che è successo nel 2004 è andata in quel modo nel 2007 se sono i presentanti da soli non hanno chiesto assolutamente la nostra collaborazione e quindi nel 2012 è successo quindi noi non è che non vogliamo collaborare con il PD noi ci potremmo anche collaborare ma nei termini della correttezza del rispetto delle posizioni di regio quindi se il PD ci avesse chiesto guardate c'è questo problema a livello del comune i casi popolari faccio un esempio a cui sono molto legato perché nessuno ci pensa discutiamone ma noi ci saremmo messi a discutere con il PD immediatamente non ci avremmo avuto questi problemi ma se tu mi chiami per dirmi che io sono entrato in maggioranza perché mi hanno chiesto di terrenzi senza nemmeno no ti dico guarda a noi non ci interessa voi entrate non usciamo tanto semplice perché questo ma non perché non vogliamo collaborare con il PD perché non vogliamo rispettare quello che l'elettoria ha deciso l'elettoria ha votato altri rispetto al PD di un amministrato quindi noi non possiamo andare contro la montagna per lo meno noi poi no sento un'ultima cosa stasera c'è un bel evento del filmare diciamo beh e qui scusami se posso interrompere io ho chiesto un confronto pubblico io con Terrenzi questa è una cosa che ho detto all'inizio dell'intervista sì sì dimmi dimmi però nessuno ha risposto io non voglio terzi intrusi è lui che deve spiegare insieme a me perché qui la questione a me pure perché ha fatto tutto questo però questo incontro ormai non c'è lo stesso perché l'hanno fatto il PD però io l'ho chiesto penso che l'elettor testimone pure l'ho chiesto da Natale lo chiediamo non è che l'ho chiesto immediatamente proprio per la vicenda di alimento quindi dire che una cosa la vicenda quella a cui io facevo il riferimento è proprio l'assemblea di stasera dove il PD vuole chiarire le sue posizioni la cosa più buffa e simpatica non so come poterla chiamare perché non ho non riesco non riesco e partecipe il sindaco sì dopo che lei ha chiesto chiaramente un'assemblea pubblica e io ho chiesto più volte cioè più volte ho chiesto una volta di intervistarlo come come ho fatto con lei lei ha accettato ha ritardato solo per problemi personali ma mi ha risposto esatto ma mi ha risposto immediatamente adesso le chiediamo questo che cosa pensa innanzitutto di questa di questa riunione stasera io permetto solo a ridere voglio me fa sorridere questa riunione perché loro non devono spiegare nulla sia se uno se uno pensa di aver tenuto un comportamento adeguato no non devi spiegare nulla il problema è che debbono spiegare perché avendo perso le elezioni oggi si trovano adesso probabilmente probabilmente è questo che vanno che vanno a spiegare non basta non c'è ne spiegare solo basta una parola hanno fatto un ribaltone politico prendendo in giro tutti i cittadini elettori sia quelli che non li hanno votati sia quelli che hanno votato per loro stessi io non riesco a capire però una cosa com'è possibile allora io vengo le elezioni e ho una maggioranza com'è possibile che io spezzo una maggioranza da un punto di vista politico morale io adesso non so lo chiedo a lei perché Terrenzi non mi ha risposto da un punto di vista politico che senso ha spezzare una maggioranza per poi chiamare un partito dell'opposizione e fare una giunta che non non ha i numeri c'è solo una promessa da un gruppo politico per il quale ha dichiarato che non avrebbe non avrebbe dato la sfiducia che poi anche questo se devo essere esigiano non lo capisco perché io se vengo a lavorare o da lavorare se ci sono degli accordi per il quale andiamo avanti ma se tu non li rispetti più per quale motivo devo rispettarli non è un rispetto noi siamo fatti così infatti siamo siamo sempre spesso in una situazione di critica perché siamo fatti in questo modo se noi facciamo se diciamo una parola se ci presentiamo agli elettori dicendo delle cose quelle rimaranno natali fino alla fine e quindi siccome abbiamo detto le cose quelle sono il discorso invece perché si è rotta politicamente questa cosa io non lo capisco per questo che dico che la mia la nostra etica e morale eventualmente non è la stessa etica e morale del PD e di Terenzi ma da un punto di vista a parte da un punto di vista d'etico ma da un punto di vista di accordi da un punto di vista di programmazione da un punto di vista del futuro del paese come è stato possibile una scelta del genere questo io non lo saprei io te lo ripeto per me è stata solo una scelta di potere e di prospettiva forse perché adesso il PD sta accoglendo perché tutto è successo anche l'uomo europeo quindi adesso come il PD sta al 40% ma probabilmente chi guarda la politica come come vero interesse collettivo sia quello degli seppiali posti ha accolto l'occasione per distribuirsi i due posti i numeri ce l'hanno perché vanno via tre se ne rientrano in tre quelli del PD a sostituzione nostra con l'unica differenza che noi per i posti non ci vendiamo ma probabilmente gli altri interessano i posti politicamente perché se no non c'è un'altra spiegazione salvo che il sindaco non la dira ma non gliela da me pare non ha accettato un'ultima cosa lei sarà presente stasera all'assemblea pubblica che ha indotto il PD no ma il PD se noi volevamo parlare con il PD ci avremmo ci avremmo parlato ma non ce l'hanno chiesto siccome in questo caso io personalmente e poi gli altri fanno il gruppo molto volentemente parteciperà qualcuno parteciperà io personalmente non partecipo perché c'è un aspetto conterrenzi c'è un aspetto personale prima di tutto lui è venuto da me come persona prima di tutto e io quando do delle parole e quando mi impegno dal punto di vista personale poi non transito dei comportamenti come quelli che ha dimotto terrenzi almeno come persona avrebbe dovuto sentire si frava anche perché un altro inciso siccome l'avevo capito da un anno che questi sarebbero andati in questa direzione a terrenzi mi vuole diventare perché non mi dici se tu voglio colpiti ragioniamoci guarda che io non mi scandalizzo mica dico ragioniamoci poi ognuno mi perdoni lei ha detto da un anno ha capito che c'era qualcosa a non andare che significa quali sono stati l'atteggiamento delle partecipazioni democratiche i segnali diventavano quali i segnali partecipavano attivamente all'attività del Tt a livello regionale a livello nazionale prima ci hanno detto che erano andati fuori che non volevano niente avere anche amici poi alla prima leoporta delle Marche o alla prima riunione partecipavano tranquillamente poi sapevamo sapevamo più volte che c'era questa attenzione anche attraverso Facebook attraverso le affermazioni quindi c'era questa cosa noi il sindaco sempre negato sempre negato tanto è vero quanto gli dice guarda se ci avete questa cosa parliamo tranquillamente non è mica ci scandalizziamo perché non si poteva parlare anche questa volta ma anche adesso che hanno deciso di fare l'allargamento al PD se ne parlate voi fate l'allargamento noi non siamo d'accordo amici come prima se vai perché non se ne può parlare invece no hanno si sono messi d'accordo tra di loro non è quindi parlare col PD non abbiamo nessun interesse per parlare di questo parlare col PD per i problemi che loro hanno lasciato da 30 anni la stanza è più amare forse è un'altra cosa perché hanno amministrato non è che possiamo far finta di nulla Martinelli ha amministrato solo due anni mezzanotte è amministrato tutto il quinquennio o finale c'è stato per tre anni per tre legislature prima c'era ancora il PD il PC allora il PG quindi quindi voglio dire non è che chi ha amministrato questo paese sono solamente gli ex PC prima oggi PD ma soprattutto questi del PD negli ultimi 15 anni quindi la responsabilità del Comune di come sta la situazione di San Tappino al Mare io nemmeno la dico però qualcuno dovrebbe pensare che comunque è responsabilità sempre loro che questo su questo è in dubbio voglio dire il bilancio che ci hanno lasciato l'avrebbero dovuto valutare adesso ce l'hanno loro non ci hanno possibilità però ce l'hanno a posto la differenza che adesso noi siamo in Comune nel circondario dove l'incidenza della pressione tributaria è inferiore rispetto agli altri comuni della zona dove i tempi di pagamento dei fornitori se sono ridotti a 68 giorni se non vado a rato quindi significa che stiamo quasi rispettando quello che la legge ci impone anche in tema dei pagamenti ecco questo io dico solamente questo poi che se prendano tutti i meriti che ricominciano perché ricominciano i lavori forse non sono domandano perché abbiamo messo a posto il patto di stabilità e adesso il Comune per quei lavori che sono già stati programmati da tempo può cominciare a portarli avanti perché è in grado di pagani noi abbiamo avuto tutti i debiti della luvione della neve eccetera quindi questo nessuno rispettivo ma io non me ne allora io penso io penso che da un punto di vista mediatico nonostante che le parole contano veramente molto poco rispetto ai fatti ma il problema è che se io dico la Tanzi non ha fatto niente lo scrivo è un esempio è un esempio molto sciocco mi deve perdonare per il modo e dico una cosa del genere cioè se un giornale dice una cosa del genere e lo vede tutti io penso che magari questo è vero se non c'è né confronto né altro il problema è anche questo i voti si controllano in questa maniera non per quello che le persone fanno ma per quelle persone ma per quello che le persone sanno per quello che le persone sanno il problema è che non spesso i fatti corrispondono alle parole infatti è proprio questo l'obiettivo della Teresa VT3 è proprio questo l'obiettivo dell'intervista che vanno a genere e le volevo chiedere infatti la vostra presenza a mio avviso da un punto di vista morale ok non era per partecipare per interrompere o altro ma quando c'erano qualche sciocchezza o comunque sia qualche inesattezza che poi poteva essere riportata sui giornali poteva essere quando meno discussa o comunque sia ma non c'è possibilità di discussione lì fanno ci sono giornalisti che intervistano i rappresentanti del PD eventualmente possono fare a parte che noi non siamo stati né invitati né qualcuno ci ha detto quello lì è un incontro pubblico anche se non va invitato da quello che sappiamo il pubblico può fare delle domande noi non dobbiamo fare domande semmai dobbiamo esporre quello che dici tu giustamente e correttamente la nostra posizione allora l'incontro eventualmente andava fatto quello che chiedevamo noi io e Terrenzi eventualmente verdetti in quattro facevamo un incontro pubblico e tutti facevamo le stesse modalità la stessa invazialità lo stesso tempo per poter esporre qui non ci avremo però noi parteciperà alcuno parteciperà sempre non è che non partecipa noi risponderemo come vorremmo noi e nelle serie puntuali ultima cosa velocemente allora il comune di San Ippidamare due punti come ammesso cioè quello che ha visto lei quali sono le problematiche nei due anni in cui voi avete potuto amministrare che cosa avete visto che c'è che non va che cosa avete risolto che cosa si potrebbe fare di meglio cioè che cosa il gruppo Lattanzi vorrebbe allora noi per quanto riguarda innanzitutto lo stato attuale diciamo lo stato scusami lo stato che avete trovato lo stato che abbiamo trovato era uno stato in cui a giugno del 2012 noi non eravamo in grado più di pagare i nostri fornitori per cui per pagare i fornitori per quale motivo perché la gestione del bilancio presidente era fatta meglio voglio dei scherzo faccio le battute perché ironizzo che cosa c'era che non andava nel senso del bilancio se il patto se il patto di stabilità se il patto di stabilità era già stato sforato a giugno del 2012 significa che la programmazione soprattutto degli investimenti precedenti non era una programmazione adeguata adeguata agli standard di San Pio di Amare io ho sempre detto quando stavo all'opposizione se lo può anche rileggere vari interventi in serie di bilancio dicevo che il comune di San Pio di Amare è un comune che non può permettersi da diversi anni a questa parte investimenti superiore a un milione di euro all'anno che già un milione è tanto e quindi bisognava adeguare la programmazione a questo dicevo che il comune deve destinare la legge 10 ossia la Bucarossi agli interventi di manutenzione non alla spesa durente da 10 anni adesso lo abbiamo fatto noi quindi queste cose per dire c'erano delle questioni che andavano risistemate che andavano in piste e messe a posto poi c'erano un altro aspetto l'aspetto del sociale in particolare delle necessità abitative che si cominciano a sentire e c'erano abbastanza di più mi sento perdonami case popolari nessuno ha messo in mano ormai non so dall'ultimo non so chi stati quindi bisognava anche più intervenire bisogna intervenire spero perlomeno ci stavano diverse questioni come a livello urbanistico Diomedi adesso stava predisponendo anche qui una nuova variante nuovi piani di recupero la sistemazione dei piani del muro precedenti c'erano dove questi voli non andavano quindi c'era tutta una vista soprattutto poi c'è un altro aspetto c'era un altro aspetto che è l'aspetto della riorganizzazione del personale anche qui perché noi sappiamo abbiamo dei vincoli di bilancio dove non si possono riassumere persone e ovvio che bisogna intervenire sulla riorganizzazione in maniera adeguata l'assessore era il sindaco in questo caso direttamente responsabile perdonami che significa riorganizzazione del personale vuol dire assumere o altro però dopo assumere abbiamo dei vincoli bisogna razionalizzare le risorse umane che hai a disposizione quindi bisogna gestire meglio il denaro che sta gestire meglio il personale attraverso le risorse finanziarie che hai quindi ridistribuendo le funzioni all'interno magari dando all'esterno qualche servizio che possa alleggerire qualche ufficio mi riferisco a tutti i possibili specialmente all'ufficio tecnico invece noi in questi due anni purtroppo abbiamo avuto delle difficoltà perché all'ufficio tecnico ci sono dei responsabili di area part time quindi come puoi immaginare ci stanno delle difficoltà quindi ecco sono delle cose che piambiamo però stavamo cercando alcune risorse perché il bilancio oggi non ha problematiche particolari l'urbanistica stava andando avanti io me li ho portato avanti tutta la facenda nel meddalotto gli ha assorbito tempo perché non c'è un tecnico per discutere quel tema se l'ha fatto se la stia adotto lui quindi lui ha fatto il tecnico e il politico nello stesso tempo quindi voglio dire non è che non abbiamo fatto nulla non abbiamo tentato di fare nulla speriamo che gli altri facciano meglio questo per il bene dei cittadini perché noi a differenza forse di altri noi abbiamo solo un obiettivo quello di rispettare quello che abbiamo detto i cittadini ma soprattutto di risolvere le problematiche più urgenti per i cittadini stessi per cui se gli altri sono andati a farmi meglio sono tutti condetti ma non lo dovevano fare in questo modo perché questo significa prendere in giro tutti non solo noi perché per me io dico sempre la politica non è politica per me la politica è del cittadino per cui se qualcuno prende in giro me prende in giro anche coloro che comunque insieme a me si sono impegnati ma anche i cittadini hanno votato me e gli altri allora in merito al bilancio ci può dire qualche cifra cioè nel senso quando io sono venuto a fare le interviste prima delle elezioni a tutti quanti candidati sindaci nessuno sapeva quanti soldi e come venivano gestiti nel bilancio di San del Pidamale cioè questo comune quanto tra virgolette guadagna quanto spende come funziona il bilancio ha una spesa corrente che supera i 10 milioni di euro ogni anno spende il comune spende 10 milioni di euro tra i pagamenti dei dipendenti tra manutenzioni c'è una grossa gestione del bilancio nel comune è abbastanza rilevante quindi non è che quello che è necessario è stato necessario intanto mettere mano alla razionalizzazione del bilancio intesa come come utilizzo delle risorse a disposizione prima per gli investimenti prima per gli investimenti e poi anche per la spesa corrente tanto è vero che noi abbiamo dovuto tagliare l'anno scorso io sono stato assente perché ero stato male in quel periodo eccetera però abbiamo dovuto tagliare sulle 500-600 mila euro di spesa corrente proprio perché c'era un taglio a livello nazionale c'è stata la questione di non aumentare più tanto la tasi le imposte l'IMU e così via per cui abbiamo avuto anche difficoltà in questo senso però abbiamo cercato di risolvere se non vado errato in un'intervista l'unica persona che mi ha risposto era Orsili che negli anni precedenti in cui ha amministrato si parlava di un indotto circa di 17 milioni di euro che gira intorno al comune però parliamo dei 50 famiglie no no io ho parlato di spesa corrente ma certo complessivamente adesso guarda non mi ricordo con precisione ma se non vado orato in termini assoluti in termini entrati spesi in termini assoluti dovrebbe essere intorno ai 20 milioni di euro Orsili ha detto giusto Orsili ha detto giusto perché ha amministrato con me 17 20 milioni di euro 17 molto probabilmente Orsili si riferiva già a 3-4 anni fa oggi molto probabilmente lui si riferiva se non vado errato alle entrate che c'è il comune tramite lo Stato tasse o altro no sì sì no ma le entrate corrispondono ai spesi ah certo quindi in grosso modo ha detto una cosa sicuramente corretta perché adesso si aggirerà pensiamo a passati da quando è stato avermato a 3 anni 20 milioni di euro quindi massimo sicuramente ci sta l'adevamento 105% come minimo d'adevamento poi ci possono stare variazioni diciamo di che si aggira in donno a 20 milioni di euro sicuramente 20 milioni di euro te lo mi ascolto di ok un'ultima cosa lei non potrebbe indire visto che è partito in teoria è partito di maggioranza altro voi potete indire un'assemblea pubblica come lei ha annunciato e invitare tutti oltre a terrenzi altro se dopo non si presentano come io quando faccio l'intervista io vorrei farla però se non si presenta il cittadino lo devono sapere perché non è che non è stata fatta ok l'intervista di teoria c'è però non è stata lui non l'ha voluto è diverso da non ci sta non si è fatta ho capito no no noi l'abbiamo l'abbiamo detto che lo dovevamo indire poi io ho avuto come tu sai si si le problematiche che ci ho avuto per cui adesso un attimo però questa è una cosa che faremo e faremo anche in occasione del bilancio io spero di vedervi anche se devo essere sincero per quello che è stato detto anche stasera partecipare attivamente una cosa a cui noi non scendiamo e io perlomeno quando uno è stato preso in giro se tu mi avessi preso in giro no no capisco comprendo io oggi non dovrei accettare qui in ufficio fare l'intervista ma siccome sei una persona corretta e l'hai dimostrato più volte e me l'hai chiesto con stessi venticure e quindi te li posso solo ammirarti ti ho detto vieni tranquillamente anche se oggi avevo pure qualche problemino quando avevo riannunciato però t'ho ricevuto oggi io andare all'assemblea convocata dal PD non il sindaco se fosse stato il sindaco già sarebbe stata una cosa diversa convocata dal PD per l'allargamento della giunta si avrebbe stravolto quello che gli elettori hanno deciso ma io non ci parlo per questo se avessero fatto una cosa diversa per l'intensione questo è il tema discutiamo del tema ma in termini non sospetti con la giocatura e correttezza con la realtà e rispetto al regime noi saremmo stati limit è possibile è possibile richiedere i bilanci comunali precedenti degli ultimi tre o quattro anni se me lo potete fare se me lo potete far avere allora io questo dovremmo anche una copia penso io a parte che diventano pubblici poi una volta approvati insomma se fosse indoria però sì ci sentiamo grazie a tutti per l'intervista prego ci sentiamo sì a parte a parte per l'intervista per l'intervista